Chiamami col tuo nome e io ti chiamerò col mio. Chiamami col tuo nome e io ti chiamerò col mio. Quattro nomination agli Oscar 2018 per Chiamami col tuo nome, il film di Luca Guadagnino tratto dall'omonimo romanzo di André Asimann. Miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore protagonista per Timothée Chalamet e miglior canzone per Mystery of Love di Sufjan Stevens. Al cinema del 25 gennaio, nei mesi scorsi, la pellicola ha ottenuto 50 premi e oltre 150 nomination in festival internazionali, compiendo un'impresa senza precedenti per un regista italiano. Chiamami col tuo nome ha conquistato critica e fan, che ieri si sono radunati di fronte all'hotel della Russi per la conferenza stampa romana. Che sia il film sull'aurora di una persona che diventa un'altra persona. su quel momento proprio aurorale in cui ci si trasforma. Mi piace pensare anche che sia un film sul desiderio, e quindi il desiderio non conosce definizioni di genere. La storia di Elio e Oliver, interpretati magistralmente da Chalamet e Armie Hammer, alla dolcezza del primo amore e la forza di uno di lungo corso. Ma siamo in grado di impegnarci nell'amore e nel dolore come fanno i protagonisti? Restiamo in attesa del 4 marzo, quando un regista italiano potrebbe tornare a stringere in mano la statuetta dorata.